Ciao a tutti, oggi prepareremo le lenticchie in umido. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cipolla, carote, prezzemolo, basilico, olio, pomodori ciliegino, pepe nero, sale, dado bimbi, lenticchie secche e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla, le garote, il prezzemolo e il basilico. Li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 8. riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'olio, i pomodorini, il sale, il pepe. Facciamo avalgamare per 5 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo adesso le lenticchie, il dado e l'acqua. e lo facciamo cuocere per 50 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft, con il cestello al posto del misurino. Le lenticchie sono cotte, andiamo a impiattare. Lenticchie in umido. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.